La rassegna stampa è offerta da Pama Arredamenti, zona industriale, località Sant'Antuono, Polla, Salerno. Buongiorno, buon martedì 9 aprile, ben trovati con il nostro appuntamento con la rassegna stampa di Uno News. Andiamo a sfogliare le pagine dei quotidiani, vediamo quali sono le principali notizie pubblicate sui quotidiani in edicola questa mattina. E partiamo dalla prima pagina del mattino nazionale, vediamo, si parla dei fondi del PNRR, l'ipotesi slittamento. Giorgetti è pronto a proporre ai nuovi vertici dell'Unione Europea una proroga che vada oltre il 2026 per il completamento dei cantieri. Oggi il DEF Salvini a Napoli rilancia intanto il piano casa, non sarà un condono, tra qualche giorno arriverà in consiglio dei ministri. E poi si parla anche del caro benzina, un nuovo aumento per il carburante, torna il caro benzina a 7 euro in più per il pieno. Prezzi ai massimi da ottobre, pesa il fattore speculazione. Di fondo l'analisi, le riforme che rinnovano il sistema politico. A centropagina invece il caso dei due carabinieri purtroppo rimasti uccisi nell'incidente stradale che si è verificato a Campagna. Vediamo carabinieri morti, drogata alla guida. Quindi la donna alla guida del SUV, pare sia risultata positiva sia al test dell'alcol che al test della droga. Positiva anche all'alcol, come abbiamo detto, la donna che ha travolto con il SUV l'auto con a bordo i due militari. Il blitz terrorista Isis Tagico, arrestato a Fiumicino, era diretto a Roma. Spostiamoci di spalla, maternità e gender, se il magistero del Papa non si sottrae alle risposte. Non è un documento del Papa, come un'enciclica o un'esortazione apostolica, ma dignitas infinita, copyright del dicastero dottrina della fede, e certo il summa più completo e autorevole degli oltre dieci anni di pontificato di Francesco. Putin e la guerra, le scelte che l'Europa è chiamata a sostenere. Andiamo in basso, il calcio, stadio, Napoli, i conti per l'Europa, l'attacco c'è male, la difesa, Dela insiste, Bagnoli unica soluzione. E poi il personaggio, gioia e rimpianto, Ossi, è un sentimento a termine. Questa è la prima pagina del mattino nazionale. Andiamo ora invece a vedere quali sono i principali titoli per il mattino di Salerno. Si parla dell'incidente stradale che si è verificato a campagna provocando la morte dei due carabinieri. Carabinieri, vediamo, carabinieri morti, il dolore del sud, campagna si ferma per i suoi eroi silenziosi, in Puglia esecue solenni per le due vittime. La tragedia, Francesco e Francesco, oggi si svolgeranno i funerali, domani la fiaccolata nel paese in cui lavoravano. E poi l'inchiesta, indagata la 31enne alla guida del SUV, positivi i suoi test, ma vanno comunque, pare, ripetuti. Cinque filmati acquisiti dalla polizia stradale di Eboli per chiarire la dinamica dell'incidente mortale avvenuto nella tarda serata di sabato a campagna. Cambiamo argomento. Il degrado, siamo di spalla, lungo mare come un suc, come un sacco, una brutta cartolina. Per le notizie invece di fondo, anno c'era inferiore la denuncia CISL, quell'infermiera rimasta in corsia per 18 ore. A Giffoni-Vallepiana uccise il padre con i familiari, pena definitiva per il 17enne. Le notizie invece riportate a centropagina, il comune, bilancio sbagliato, De Luca richiama la maggioranza, i conti da rivotare nel nuovo summit nella stanza del sindaco Napoli, che non c'è, poi all'opposizione siate più sobri. Per la politica Conte attacca il centrodestra, ma glissa sul governatore. Nella foto notizia, trionfo cavese, una città in festa, promozione in serie C, migliaia in piazza Duomo e allo stadio. E andiamo in basso, laboratori, Salet rilancia la Summer School per gli studenti, laboratori, scrittura creativa e giornalismo culturale durante il festival. E poi anche il calcio, la Salernitana, Granata senza ultra, a casa di Lotito e Fabiani. E lasciamo questa pagina, andiamo avanti ancora sul quotidiano, sulle prime pagine, vediamo quali sono i principali titoli invece per le cronache. Vediamo in apertura, sulle foto notizie con cui apre oggi le cronache, due temi che riguardano il governatore della regione Campania, De Luca. Vediamo, De Luca ironico a luci rosse, ironizza sul regolamento di Tringali, come si fa a fare sesso senza far rumore. E poi invece un De Luca furioso parla dell'Arecchi e dello stadio Volpe, confonde il PNRR con i fondi di coesione, mancano i soldi ma ce la faremo. Andiamo a centro pagina, morte dei due carabinieri. Nensi Liliano era positiva agli esami di alcol e droga, indagata per duplice omicidio stradale. Oggi si svolgeranno i funerali in Pugna, mentre a Campania sarà lutto cittadino. In basso, Festival a Baronisi, libro aperto, ritorna la letteratura dedicata ai bambini. Festa a Cavese, Lamberti, un'emozione indescrivibile. E ieri a Napoli c'è stato il ministro Salvini, che boccia San Giuliano candidato, fa il ministro. Quindi dice no alla candidatura, alla presidenza della regione per San Giuliano. Andiamo avanti ancora. D'Alessio e Maraio insieme no all'autonomia differenziata, ma intanto Calenda attacca Maraio. E poi in Campania, via libera, regolamento etico del PD. Piero De Luca avvisa la Schlein, evitiamo di farci fare l'esame del sangue dal Movimento 5 Stelle. Chiudiamo questa pagina, torniamo ora sul mattino nazionale, quindi andiamo ad approfondire i temi che abbiamo già visto. Il tema di apertura, l'iniziativa di Giorgetti, che è pronto a chiedere ai nuovi vertici dell'Unione Europea, ai nuovi vertici che saranno eletti a giugno, di slittare le scadenze, uno slittamento delle scadenze per quanto riguarda i fondi del PNRR. Vediamo infatti il titolo. PNRR, scusate, l'Italia chiederà di andare oltre il 2026, deficit al 4,3% nel DEF. La cautela del ministro Giorgetti, meglio fare bene che in fretta. Il testo oggi in Consiglio dei Ministri, confermati i numeri, ma pesa il super bonus. Aggiornato il conto dell'incentivo, superati i 122 miliardi per la detrazione, lavori ancora in corso per 6 miliardi. Il documento di Economia e Finanza sarà in versione leggera, all'interno solo il quadro tendenziale. E andiamo in basso. La stretta dei Meloniani, multe e dirigenti in ritardo sui progetti del piano. In commissione la proposta di Fratelli d'Italia, firmata da Foti. Stipendio in pausa per due anni, se i tempi sforano del 10%. E per combattere la paura della firma, nella pubblica amministrazione, assicurazione obbligatoria per chi gestisce le risorse. E chiudiamo questa pagina, andiamo avanti ancora. Parliamo sempre delle novità su cui sta lavorando il governo Meloni. Per quanto riguarda la nuova misura, sulle successioni si cambia, arriva la precompilata. In Consiglio dei Ministri, nuovo decreto attuativo della riforma fiscale targata Leo. Nelle aziende familiari, semplificato il prelievo per il passaggio delle quote. Verso il tributo unico in ambito catastale, ipotecario, semplificato, più economico, l'accesso alle banche dati. Prevista anche la consultazione gratuita dei servizi informatici per avere le visure per via telematica. Andiamo in basso per quanto riguarda invece la sanità. La sanità, ospedali, celli intesa, governo, regioni, fondi agli enti con più criticità. Verrà rimborsata la quota di 1,2 miliardi di stanziamenti rimodulati da Fitto e assegnati a chi è in difficoltà. Aiuti alle regioni in difficoltà dopo un monitoraggio sulla reale consistenza finanziaria degli investimenti, ma il senso della norma sull'edilizia ospedaliera voluta dal Ministro degli Affari europei, Fitto, per ora non cambia. Prima tregua dopo il forte braccio di ferro dei giorni scorsi tra l'esecutivo e gli enti locali sugli 1,2 miliardi di fondi per la ristrutturazione degli ospedali. Chiudiamo anche questa pagina, andiamo ancora avanti sempre sul mattino nazionale. Parliamo ora del piano casa, lo abbiamo visto anche dalla prima pagina. Il Ministro e Vice Premier Salvini rilancia su questo nuovo piano. Vediamo piano casa, Salvini rilancia, ma non sarà un condono. Il Ministro a Napoli assicura niente alibi per gli abusi e chi costruisce zona sismica. Verso il voto, appello al centrodestra unito. A Bari, alleanza compatta come in Basilicata. La fondo, la riforma dell'autonomia, darà spazio ai buoni amministratori. Stop ai De Luca o agli Emiliano. E lasciamo anche questa pagina. Andiamo avanti ancora sul quotidiano. Il mattino parliamo ora dell'incidente stradale che si è verificato a Campagna con la morte dei due carabinieri. Campagna, la donna del SUV aveva assunto alcol e droga. L'impatto fatale per i due carabinieri, PM, omicidio stradale e lesioni gravi. Uno dei militari aveva finito il turno, ma era rimasto per aiutare i colleghi. I test tossicologici andranno ripetuti. Conducente indagata in stato di libertà. Oggi si terranno i funerali dei due giovani. E chiudiamo anche questa pagina. Ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Torniamo tra pochissimo. Restate con noi. Bentrovati con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Vediamo quali sono le notizie che interessano la provincia di Salerno. Quindi partiamo dalle pagine di primo piano del mattino di Salerno. ampio spazio dedicato purtroppo al decesso dei due carabinieri avvenuto a Campagna a seguito di un incidente stradale. Nemmentre erano in servizio le due salme sono giunte in Puglia per la Camera Ardente. Intanto però è lutto cittadino anche a Campagna nella giornata di oggi in cui si svolgeranno i funerali delle due giovani vittime. Vediamo lutto cittadino e fiaccolata. Campagna rende omaggio ai suoi due eroi silenziosi, educati, professionali disponibili. Si sono fatti ben volere dalla comunità. Tanto dolore ed è difficile accettare che le abbia travolti una donna di qui. Questi sono i commenti alla tragedia avvenuta nei giorni scorsi. Il questore Conticchio, il generale della finanza e la dirigente della stradale portano il loro cordoglio alla stazione dell'arma in via Nasseria. Campagna rende omaggio con il silenzio alle due vittime e a quei figli che hanno trovato la morte investiti da un SUV. Oggi, giorno dei funerali dei due carabinieri morti durante l'incidente verificatosi tra sabato e domenica notte al quadrivio di Campagna, è stato decretato lutto cittadino. Il sindaco Biagio Luongo sarà a Manfredonia per partecipare al funerale del maresciallo Francesco Pastore, mentre la vice sindaca Barbara Granito sarà a Lecce per i funerali dell'appuntato scelto Francesco Ferraro. Quindi ci sarà una rappresentanza della comunità di Campagna ai funerali che si svolgeranno oggi in Puglia dei due giovani carabinieri. Andiamo avanti sempre su questo argomento che, come detto, il mattino di Salerno dedica ampio spazio proprio a questo tema, purtroppo a questa tragedia. Vediamo in Puglia due comunità devastate dalla sofferenza, non doveva andare così. Le camere ardenti sono state allestite nei comuni di origine dei militari. Fiocchi bianchi a Montesano, Silentino, corteo funebre davanti alla casa della nonna. Francesco Ferraro voleva diventare brigadiere e studiava per coronare il suo sogno d'amore con la fidanzata. E poi vediamo qui le immagini dell'arrivo delle salme in Puglia. Vediamo infatti sulle spalle dei carabinieri le salme di uno, delle due vittime e poi si intravede appena appena l'altra salme. Vediamo intanto per quanto riguarda le indagini su cui stanno indagando la polizia di Eboli. Vediamo indagata la donna del SUV, test tossicologici positivi, ma dovevano essere ripetuti. Resta il dubbio su quando la cocaina sia stata assunta. Acquisiti cinque video in cui si vede lo schianto, la causa e l'alta velocità. Cinque filmati acquisiti dalla polizia stradale di Eboli per chiarire la dinamica dell'incidente mortale avvenuto nella tarda serata di sabato a Campania. Costato la vita al maresciallo dei carabinieri Francesco Pastore e all'appuntato scelto Francesco Ferraro rispettivamente di 24 e 26 anni che insieme ad un collega erano a bordo di un'auto di ordinanza, una Fiat Punto, che stavano per istituire un posto di blocco. L'auto dei carabinieri condotta da un altro militare Paolo Volpe è rimasto ferito e ricoverato all'ospedale di Eboli. con prognosi riservata di 30 giorni è stata travolta da una Range Rover condotta da una 31enne di Campania, indagata ora per omicidio stradale e risultata positiva all'alcol test di poco superiore alla norma e punibile con una sanzione, mentre i risultati degli esami tossicologici non sono ancora pronti. E chiudiamo questa pagina, andiamo avanti, lasciamo questo argomento, vediamo ora invece quali sono le notizie che riguardano l'area della Piana del Sele, dei Picentini, del Cilento e del Vallo di Diano. Siamo in apertura a Giffoni, Valle Piana, vediamo uccise il padre assieme a madre e fratello, la condanna è definitiva. Il 17enne era accusato di omicidio e occultamento di cadavere, rinuncia all'appello, deve scontare 13 anni e 4 mesi di reclusione. La Cilentana, lavori a senso unico alternato, sospesi alla vigilia di Pasqua per consentire la riapertura della strada di fondamentale importanza per le località costiere sul viadotto Acquarulo del territorio di Ceraso, ieri mattina sono ripresi i lavori e per tre settimane si viaggerà a senso unico alternato con impianto semaforico. Ad Atena Lucana smaltimento rifiuti, indagati due tecnici comunali, due cave sequestrate, sigilli ad alcuni mezzi e quattro persone indagate, un'inchiesta che parte dalla Procura di Potenza e che tocca soprattutto Atena Lucana, ma che ha al centro i lavori sulla variante Tito-Brienza in Basilicata e soprattutto lo smaltimento dei rifiuti scaturiti dagli stessi. Quattro persone, due imprenditori e due tecnici comunali, tre di loro del Vallo di Diano, risultano indagate per accuse a vario titolo inerenti allo smaltimento dei rifiuti dei lavori lungo la nuova statale Tito-Brienza. A Eboli, ok, alla demolizione di Forta Pascio, famiglie spostate al Rione Pescara. A Battipaglia, pronto soccorso Trincea, occorre più personale. Per le notizie invece di Spalla, Vallo della Lucana, account social del Vescovo, la diocesi è un fake. Circola in queste ore su Instagram un account falso del Vescovo Vincenzo Calvosa. Si precisa che il Vescovo non possiede alcuna account Instagram. La vicenda è già stata segnalata alle autorità competenti. A Eboli Sanità, Conte convochi un'assemblea con i cittadini. Queste alcune delle notizie pubblicate sul quotidiano Il Mattino di Salerno. Spostiamoci ora sulle cronache, andiamo a Eboli, vediamo lavori pubblici del localizzazione del borgo, pronti 9,5 milioni per 56 nuovi alloggi, previsti attrezzature sportive e locali per ospitare le attività delle associazioni. Il programma di intervento del rione Borgo prevede anche la realizzazione di un'area attrezzata di 6.000 metri quadri. Dopo le polemiche delle ultime ore, ecco la fotografia completa del progetto di recupero dell'area. Polemiche vecchie e nuove sul programma di recupero dell'area Borgo presentano una nota positiva. La possibilità di spiegare nel dettaglio programmi e risorse impiegate. Lo ha fatto l'assessore comunale ai lavori pubblici e urbanistica Salvatore Marisei alla vigilia della discussione sugli alloggi di via Giarletta in Consiglio Comunale. Andiamo in basso. Sanità, Comitato Salute Pubblica, assemblea sull'ospedale, richiesta al sindaco dopo l'ufficializzazione dell'atto aziendale, posti letto confermati e piano edilizio sanitario minaccioso. Dopo l'ufficializzazione dell'atto aziendale, il Comitato Salute Pubblica, preseduta da Rosa Adelizi, lancia una richiesta, assemblea pubblica, per informare i cittadini. Per quanto riguarda la cultura, Alessandrina Tambasco, storia di un'eroina, al liceo scientifico, libro di Mariella Marchetti, nell'aula Magna Siani, al liceo scientifico di Eboli. E chiudiamo questa pagina, andiamo avanti ancora, sempre sulle notizie, per le notizie dell'area sud di Salerno. Vediamo l'analisi, tutela ambientale e controllo, mai abbassare la guardia. Il Cilento, nei mesi estivi, è in meta di un turismo di prossimità con numerosi turisti che si sversano sulle spiagge. In provincia le noti dolenti arrivano anche dalla riserva del Foce, Sele e Tanagro. La colpa è da individuarsi anche nella politica, che spesso si riempie la bocca con frasi e con pochi fatti. La tutela ambientale da sempre rappresenta uno degli argomenti più attenzionati inseriti all'interno del dibattito sia sociale che politico. Giustamente ci si preoccupa di quelle che sono le condizioni in cui si vive della salute del territorio e ci si interroga su scelte che inevitabilmente si ripercuotono sulla salute di tutti gli abitanti di un'intera terra. Nel corso degli anni, continuiamo leggendo l'articolo, varie sono state le segnalazioni circa lo stato di salute della Piana del Sele e dei fiumi che scorrono lungo tutto il territorio a sud di Salerno. Il Cilento, come ben noto, nei mesi estivi risulta essere meta di un turismo di prossimità con numerosi turisti balneari che si riversano nelle sue località portando notevoli benefici ai lavoratori del settore. E poi un lungo articolo con anche dati alla mano. Andiamo in basso, la cronaca, droga addosso e in auto, in manette, un 56enne. L'uomo aveva un bilancino e materiale per il confezionamento. I carabinieri della sezione operativa del nucleo operativo radiomobile di Agropoli hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 56enne del posto. Nello specifico i carabinieri, nell'ambito di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno notato l'indagato cedere ad altra persona una bustina in cellofan che è stata poi recuperata dai militari dell'arma. E lasciamo anche questa pagina. Andiamo ora invece sulla pagina sportiva. Parliamo quindi di Salernitana che si sta preparando alla prossima sfida. Vediamo. Salernitana, Candreva, sfida il suo passato e, puntini sospensivi, il suo futuro. Questo è l'interrogativo nel titolo di Le Crona, che il capitano ha già giocato finora, quasi sempre titolare, realizzando sei gol e sei assist. Ha ancora un anno di contratto con il Granata, ma la Lazio, dove si è consacrato, potrebbe essere pronta a riaccoglierlo. Ma Stantonio, nonostante la stagione disastrosa della squadra, ha dimostrato di poter fare ancora la differenza. Il futuro, per ora, non ci penso. Queste le parole di Candreva per quanto riguarda, proprio alla domanda su quale sarà il suo futuro. Andiamo avanti. La curva sud-siberiano. 500 biglietti. Ridicolo. Non ci saremo. Durissimo comunicato degli Ultra Granata. È un'offesa ed una decisione senza senso. E chiudiamo questa pagina. Termina qui la nostra rassegna stampa. Io vi ricordo l'appuntamento con il nostro Tg alle ore 13.45. Grazie per averci seguito. Auguro a tutti una buona giornata. Grazie.